L'hanno descritto come un mare in tempesta, con onde continue che devastavano la loro casa. Il fosso di Caminate ha provocato allagamenti in quasi tutta la zona e come vi abbiamo mostrato nei servizi dei giorni scorsi, ha isolato addirittura delle case. Purtroppo non ha risparmiato neppure loro. Ha rotto tutte le recinzioni, infatti non riusciamo più nemmeno a far uscire i cani perché non sappiamo dove metterli. Qui vicino abbiamo anche i cinghiali e abbiamo paura. La famiglia di cui ci siamo occupati questa mattina è disperata. La forza dell'acqua ha devastato anche quelle poche cose che si sono guadagnati con i risparmi di una vita. Ed ora non riescono a sistemare proprie spese e danni creati dall'ultimo nubifragio, così chiedono un aiuto al comune di Fano. Con i sacrifici che abbiamo fatto di una vita ci ha portato via praticamente all'esterno tutto, tutto quello che avevamo. Le recinzioni erano fermate con dei blocchi di cemento così, quindi la furia che ha avuto dall'argine laggiù ha fatto base praticamente tutta in discesa verso casa nostra. Tutti i detriti, tutto il fango, proprio diretti qui da noi. Quindi penso che sia stata una cosa, no penso, è stata così, una cosa violenta. Danni ingenti, ora volete chiedere un aiuto? Sì, noi chiediamo almeno un aiuto morale che ci calcoli qualcuno perché non riusciamo a mettere fuori i cani, non abbiamo più un recinto. Sì, sì, noi chiediamo veramente fermamente al comune di darci una mano perché stiamo proprio a terra. Sì, sì, noi chiediamo.